I giovani durante la pandemia hanno salvato vite di coloro che erano più anziani, i giovani sono stati rinchiusi in casa, li abbiamo rinchiusi in casa, loro rischiavano molto poco dal punto di vista della pandemia e sono stati diligenti, bravi, noi abbiamo un credito su questo tema, i ragazzi hanno un credito su questo tema.